ecco qui un cliente ci è venuto a trovare e facciamo una dimostrazione car tablet by audi lit il cliente ha anche inserito la sim adesso vi faccio vedere perché questi car tablet mercedes hanno la sim lo vedete lì 4g con massimo del campo andiamo in dimostrazione facciamo vedere un po come va su android quindi tutti i car tablet mercedes hanno possibilità di mettere la sim come ti trovi benissimo ma ingrandisci il video devi bravo ok abbassa togli l'audio perché con la musica facebook per privacy ci blocca sei super soddisfatto fantastico è cambiato ok siamo su youtube proviamo maps vediamo come gira quindi con la sim mai cresce tutto a posto ecco lì ma perfetto puoi fare posizione real time con il mirino lì sopra bravissimo confermi ok fai no quella è la cronologia fai ok perfetto allora una cosa importante che tanti clienti non lo fanno mai poi si blocca il tablet andiamo sul play store e facciamo vedere come si aggiorna tutta la sezione android è fondamentale questo non essendo uno smartphone che vi decide lui se fare gli aggiornamenti automatici o no andate sul menu a tendita le mie app e i miei giochi sopra menu a tendina quindi non l'hai fatto neanche te mai bene vedi vogliamo l'occasione per le mie app e i miei giochi vedi adesso non scorri prima tu facciamo vedere tutte le app cosa succede adesso lui ancora funziona nel momento in cui passano tanti giorni aspetta che faccio lo zoom faccio vedere tutti gli aggiornamenti scorri ancora che poi se vedi waze youtube maps sono tutti aggiornamenti da fare fai aggiorna tutto perché dopo un determinato periodo si blocca il tablet si arrestano le applicazioni e il tablet non funzionerà bene da arresto anomalo e può dare dei difetti ma siccome mi bombardano di chiamate alla fine il 99,9 per cento e per queste cose cogliamo l'occasione per farlo che sapere a tutti i nostri clienti è l'unica manutenzione che va fatta poi ovviamente adesso vediamo per rendere il tablet veloce nel momento in cui voi usate parecchio il tablet c'è un menu a destra bravissimo quello lì vi permette innanzitutto adesso con la x chiudete tutte le app ma addirittura se volete richiamare le app veloci basta scorrere pigiate e richiamate un'app senza che ogni volta andate nel menu e la rischiacciate adesso rendilo veloce chiudi tutto con la x bravissimo abbiamo reso abbiamo chiuso tutte le app adesso nel frattempo che si aggiorna facciamo vedere come si va in originale abbassiamo l'audio sempre per il solito discorso che per privacy perfetto vai facciamo vedere se hai perso qualche funzione originale oppure è rimasto tutto ok adesso facciamo vedere il menu in cui c'è il sezione setup veicolo informazioni sistema no bravo no qui non c'entra niente arrivai sul sistema no dove ci sono informazioni del veicolo qui dove c'hai questo sta in originale non è touch quindi devi fare tutto con la manopola vai da ntg mode e adesso siccome sta in originale vai tutto con bravissimo sistema o facciamo vedere audio sistema che cos'hai non hai impostazioni veicolo assetto questa macchina non te lo far vedere perfetto allora scusa mi pensavo che alcune macchine ce l'hanno ok ricordiamo che quando è fondamentale quando andate in android le macchine che hanno l'aux dobbiamo flegare l'aux se voi involontariamente lo togliete quindi si va su audio si mette aux perché tanti mia e adesso tocchi il touch perché tanti mi chiamano stefano perso l'audio in android in originale va bene io gli dico ok andiamo a controllare sorgenti audio deve essere in modalità aux hai ragione perfetto va bene come vedete sta aggiornando tutti tutto l'android andiamo un attimo nel play store e vediamo quanto manca sempre le mie app i miei giochi menu a tendina bravissimo in attesa 4 ok sta facendo installazione io ti ringrazio sicuramente sarà stata molto utile per i clienti che magari hanno scordato queste informazioni che noi diciamo sempre a collaudo della macchina col cliente preparatevi che abbiamo un cl a car tablet che dobbiamo eseguire abbiamo un ford fiesta car tablet e toyota chr car tablet ovviamente siete fantastici grazie grazie a voi